Dal 21 al 30 giugno si sono tenuti a Pesaro i campionati europei di Maxi Basket, un appuntamento dell'anno per i master della pallacanestro continentale. Si tratta del dodicesimo campionato europeo FIMBA, Federazione Internazionale Maxi Basket, lo sport della palla spicchi praticato dai 35 agli 80 anni e che coinvolge decine di migliaia di atleti di tutto il mondo, tra i quali molti ex professionisti di livello. Renato Giannini e Fabio Gorga, entrambi classe 1966 di Sala Consilina, condividono fin dai banchi di scuola la passione per lo sport della pallacanestro. Militanti in vari campionati di diverse categorie, Renato Giannini, appena adolescente, viene reclutato dal Caserta Basket Serie A e proseguire poi in vari campionati italiani di Serie A e B. Nella vita Fabio Gorga, architetto a Napoli e Renato Giannini, consulente finanziario a Caserta, rispettivamente nel ruolo di capitano coordinatore di ALA, giocano per la compagine della SD Golden Players ormai da diversi anni. Fabio Gorga ci riferisce che si continua a giocare per il gusto non solo di affrontare una gara e superare i propri limiti, ma soprattutto per coltivare l'amicizia, elemento essenziale in ambito sportivo, un collante potente per raggiungere lo stesso obiettivo che non rappresenta, prosegue Fabio, tanto quello della vittoria a tutti i costi, ma quello dello stare insieme, di condividere i pasti, gli allenamenti della giornata, di divertirsi sul campo da gioco continuando ad inseguire ancora i propri sogni ed infine di incontrare persone e fare nuove amicizie con altri cestisti provenienti da tutto il mondo. Renato Giannini ci spiega inoltre che il campionato Maxi Basket coinvolge circa 200 squadre, di cui il 45% femminili, con oltre 3.000 atleti e migliaia di addetti a lavori dal seguito. In dieci giorni si sono svolte a Pesaro 600 partite su 14 campi e sono tante le società italiane presenti, con molte più squadre per categorie di età. Non mancano i momenti di puro divertimento, continua Renato. Con Fabio e altri amici abbiamo improvvisato una mini band musicale e ci siamo esibiti in diversi momenti delle gare del torneo e non solo. All'unisono Renato e Fabio esprimono con una esplosione di grinta, mista a felicità, viva soddisfazione per il buon piazzamento in classifica per questo dodicesimo campionato europeo FIMBA e i Golden Players portano a casa 5 medaglie, 2 oro per la categoria maschile 50 e femminile 40, un argento per la categoria maschile 65 e due medaglie di bronzo per la categoria femminile 50 e femminile 45.